ragazzi il max vi aveva promesso le piramidi ma come spesso accade sempre accade il max vuole fare di più e quindi oggi vi ha portato direttamente la spinge se guardate dentro qua vedete la spinge amici questa è la spinge ragazzi benvenuti a questa diretta da gisa direttamente abbiamo cambiato postazione per avere questa postazione ho dovuto fare il diavolo a4 per cui oggi vi aspetto in diretta numerosi da gisa dopo il weekend all'esplorazione delle piramidi delle tombe dei faraoni che continuerà nei prossimi giorni oggi discutiamo un po di posizioni chiuse facciamo un po di analisi e poi facciamo un po di trading insieme dimostrerò alcune posizioni su forex alcune posizioni che ho aperto su il silver e poi chiaramente un po di opzione di mercato americano che abbiamo discusso anche la volta scorsa per l'occasione come spesso accade che oramai è una diciamo così usanza dove vado vado il cappellino o il copricappo tipico per cui oggi non potevo fare a meno di venire con voi con questo speciale cappellino che è riservato agli guardiani dell'arem qualcuno che mi segue da un po l'ho messo in un'altra occasione lo sa allora mi sto mano a mano camuffando sempre di più da egiziano barra arabo la prossima facciamo da sopra la piramide o da dentro vediamo se la connessione web prende da dentro ora potete vedere alle mie spalle le tre piramidi più grandi che ci sono qui a gisa poi quelli più piccoli non si vedono e la nostra sfinge là dietro l'albero per chi si è connesso all'inizio l'ho fatta vedere nel cerchietto della mia mano la notte qui accendono le luci e raccontano la storia in varie lingue a seconda della serata per cui è molto molto bello e suggestivo è quello che volevo far vedere quando eravamo l'altra volta al meriot ma non siamo usciti perché il meriot dove trasmettevo l'altra volta sta dietro dall'altra parte dalle piramidi quindi le luci la sera si vedono solamente per chi sta di qui e va bene allora intanto saluto tutti gli intervenuti traders codiciani non codiciani codiciane molte persone e donne sesso femminile si stanno affacciando al trading online all'anno scorso molte persone giovani si stanno affiancando affacciando al trading online dall'anno scorso sono tutti i curiosi un alpino sembrerebbe un po strano saluto tutti gli appassionati del trading online allora anzitutto iniziamo dalle condivisioni le condivisioni dei risultati di cui io ho un attimino discusso alcuni risultati li possiamo possiamo dire che le abbiamo condivisi con metatrader web con i nostri amici codiciani perché sono operazioni che sono state segnalate allora si parte da qua sopra dove si può vedere 1294 a scendere ci sono le posizioni chiuse ultime 48 ore perché sono quelle di venerdì e sono quelle anche qualcosa chiuso oggi queste sono le posizioni chiuse una meta trader quindi l'euro dollaro è stato chiuso qualcosa è stato chiuso il trade su visa è stato chiuso qualcosa sull'argento sapete che una posizione di medio rialzista è nata un po in attivo alcune delle posizioni per cui ho chiuso qualcosina quindi questo per quanto riguarda l'euro dollaro per quanto riguarda l'argento e per quanto riguarda però visa sono comunque rialzista di fondo su visa sono rialzista sull'euro dollaro e sono rialzista sull'argento per quanto riguarda la view questi sono semplicemente dei parziali diciamo così ok poi se vedete qualcuno le mie spalle perché da qua chiaramente c'è la super view e tutti vengono a fare le foto di giorno di notte oppure pranottano il tavolo perché sono pochi tavolini la cosa interessante di gisa incredibile è che tutto intorno alle piramidi dall'altra parte c'era un un grande hotel del merio dove eravamo l'altra volta ma questa parte che quella più vicina 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 alle piramidi che ti sembra di essere dentro e si vede anche la sfinge è tutta nelle mani degli egiziani è uno dei pochi posti al mondo dei capolavori delle sette meraviglie eccetera eccetera che è in mano alle persone che ci vivono e al loro al loro popolo e io di questa cosa sono contento perché capita rarissimamente di girare in tutto il mondo e di vedere che il popolo a cui appartiene la terra vedete il messico vedete la nostra sardegna vedete posti meravigliosi in tutto il mondo dove spesso le grandi catene alberghiere dove spesso i grandi investitori internazionali si sono presi un po tutto il turista che si fa la foto e te ce lo mettiamo dentro nella diretta bellissimo ok quindi qui potete vedere ancora gli ho fatto vedere in alcune stories che sotto qua di fronte alle piramidi ci sono le proprietà degli egiziani che non possono essere vendute da quello che mi hanno detto perché chiaramente sotto qui ci potrebbe essere di tutto valori inestimabili e quindi ci sono questi blocchi che lasciano comunque delle case fra l'altro anche abbastanza distrutte nelle loro mani bellissima cosa diretta magari non come quella della repubblica dominicana che qualcuno di voi si ricordava dove c'era un intrusa anziché un intruso quindi mi sono preso il rischio a venire qua anche per quello è bellissimo è bellissimo ok allora allora ecco qua ecco qua qualcuno che ci segue da tanto tempo che si ricorda di santo domingo dove la tizia si era infilata dietro a prendere il sole allora continuiamo in compagnia del nostro amico queste sono le posizioni chiuse secche cioè dove abbiamo comprato il cfd il forex il silver eccetera eccetera vi faccio vedere qualcosa invece di chiuso allora share screen e poi passiamo i commenti le condivisioni i vostri punti di vista consigli che avete da dare voi a me che cosa da vedere queste invece ve le faccio vedere perché sono parte dei 4.100 rotti realizzati nelle ultime 48 ore ma sono posizioni in opzioni e qui potete vedere poi ve ne faccio vedere una in particolare le chiusure su nike vedete nk e qui nelle righe in fondo vediamo se riesco a evidenziare nk e nike vi avevo detto che ho rialzito chiuso due posizioni in opzioni in profitto 270 546 dollari il totale di queste posizioni in blu a destra più quelle che abbiamo visto prima fa appunto 4.100 chiuse nelle 48 ore annunciate nella diretta di oggi nel titolo ma la cosa su cui voglio soffermare la vostra attenzione è questa qua la seconda riga indica da sinistra la colonna il numero del conto un 48 i conti di interactive broker iniziano con u è qualcosa ed è il conto della proprietaria trading aziendale vedete che quella riga è lo strumento finanziario che a metà gld e il gold le tf sul gold e in fondo a destra c'è un attivo di 152 dollari quello in blu allora perché vi voglio parlare di questa posizione quella di nike è andata bene l'ho chiusa va bene ma se vi ricordate nell'ultima diretta molto bella quando abbiamo fatto la live in diretta dove abbiamo tradato e siamo entrati in long sull'euro dollaro prima di non far però il con cinque lotti ed è andato tutto nella nostra direzione ma comunque eravamo delle idee di tenere la posizione si andava male perché abbiamo una posizione realcista nel medio sull'euro dollaro questa posizione qua interessante perché è l'affitto sul gold io sul gold avevo una posizione che avevo detto che avevo aperto e chiuso in attivo ma la settimana dopo la nuova posizione in opzioni era andata in attivo l'avevo tenuta in perdita quindi io il gold a rialzo in etf e siccome il gold è sceso sto incassando gli affitti vi ricordate quando vi dicevo che incasso gli affitti sulle posizioni in perdito bene questi 152 dollari sono l'affitto settimanale di una posizione piccola che ho sul gold il gold è in perdita ma mi rende gli affitti ok io incassato questo affitto di 152 dollari e la prossima settimana ho messo dentro un altro inquilino che dura una settimana per cui venerdì prossimo interactive broker mi manderanno a me dicendo ma stai attento che hai delle posizioni in opzioni in scadenza quindi non ti far fregare non ti far assegnare perché lui non sa che io magari mi faccio anche assegnare quindi rimanda la mela tutti i clienti guarda che ha una posizione in opzioni che sta per scadere pay attention please io alla fine decido se chiuderla come questa incassare l'attivo e me butto fuori l'inquilino e incasso un nuovo affitto alla settimana dopo ve la faccio vedere per questo motivo perché noi nelle posizioni secche dove compriamo l'euro dollar dove compriamo il gold dove compriamo il silver stiamo lì e non possiamo fare nulla non possiamo incassare l'affitto cioè se l'abbiamo comprate così ma in queste posizioni dove viene messa l'opzione sopra c'è un affitto che nel tempo rende cioè voi dovete immaginare che un affitto in immobili può rendere il 5 7 il 9 per cento in alcuni paesi al mondo soprattutto se di lungo periodo negli short rent può rendere un po di più perché incassi l'affitto di breve periodo del turista ma nelle opzioni questo può rendere al mese perché tu puoi incassare un affitto su un titolo o un affitto su un'altra opzione che può rendere il 35 per cento al mese del rischio che è messo lì il rischio si intende se uno compra un immobile ha messo l'immobile gli costa il totale dell'immobile se tu compri uno strumento finanziario la redditività può essere molto più alta ci siete allora vado a vedere intanto abbiamo un nuovo intruso nella nostra diretta che vado a vedere vado a vedere le vostre domande hanno fatto il cambio prima lui fotografava l'amico adesso fotografa lui allora l'affitto lo incassi se l'inquilino non è più furbo fortunato di te allora l'affitto decidi tu se incassarlo dopodiché a scadenza cacci quell'affitto e ne metti dentro un altro chiaramente questa non è una persona qui non stai cacciando nessuno è un'opzione che non ha diciamo nessuna vita propria è uno strumento finanziario quindi cosa ho fatto bravissimo allora io avevo il titolo c'è ancora il gold e ci ho venduto sopra una col bravissimo ho incassato il premio addirittura settimanale vuol dire che dura cinque giorni netti se io le incasso venerdì il broker dice che ne dura venerdì sabato domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì otto in realtà no perché venerdì e sta scadendo perché sono mezz'ora prima della chiusura della borsa non c'è sabato e domenica non c'è quindi c'è lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sono cinque giorni netti quindi io incasso il premio di un'opzione settimanale perché scade la settimana dopo che dura sostanzialmente cinque giorni al netto di tutto quello che è il weekend e il venerdì che incasso l'aggiustamento in questo caso è l'incasso semplice di una colma si possono fare cose anche più articolate e intelligenti però parliamo di questa che è la cosa più semplice al mondo ho un titolo ci incassa un'opzione a scadenza può essere una col può essere una put e attenzione può essere una col può essere una put dipende da che cosa voglio fare può essere una col di un certo tipo può essere una punta di un altro tipo però se tu hai il titolo long è chiaro che ci incassi una col può cambiare lo strike che incassi ma con un'altra storia quindi non ho comprato una punto quindi ho venduto una col incasso il premio questo per mischiare un po nelle prossime dirette mano a mano faremo un po di mercati valutari un po di mercati azionari un po gli indici un po gli azioni eccetera 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 non voglio farvi mancare niente nel 2021 per ogni volta apriremo un conto di trading mio dell'azienda da proprietari trading dove condurremo poi tutto dentro nell'azienda faremo costruire tutto a seconda che facciamo le opzioni a seconda che facciamo le azioni sul mercato americano a seconda che facciamo il forex quali tf sempre tutto verrà giustificato qua vi faccio vedere un'operazione in opzioni invece che è andata bene abbiamo chiuso e va beh se va bene non ci vuole un genio copy to click board no allora vi faccio vedere prima l'operazione che è andata bene su nike questa l'abbiamo chiusa e basta non abbiamo dovuto fare nulla se non chiuderla questa qui è un'opzione normale è una put venduta potevo fare tante cose l'ho chiusa perché era inattivo quindi voi vedete che a destra c'è una linea verticale nera che vi fa vedere che il mio massimo profitto era di 277 per contratto io ho incassato il mio massimo profitto anche se mancava ancora una settimana scadenza quindi io per evitare di stare a mercato e magari che nike tornava indietro ho preso il massimo che potevo prendere me lo sono messo in sacoccia e ho chiuso questa è una posizione che potevo tenere lasciar scadere senza pagare le commissioni venerdì di questa settimana però mi sono levato dal mercato perché comunque rimanere poteva voler dire che nike ritracciava la vedo difficile che mi veniva giù fino a 134 però mi sono tolto dal mercato ho incassato un sicuro profitto e me ne sono andato allora vi dico una cosa della differenza tra fare le opzioni e fare gli altri strumenti allora io quando vado a mercato ho un rischio sempre di perdere ora in questo caso quando io vado a mercato con le opzioni mi posso far pagare il fatto di stare a mercato al passare del tempo mentre se un altro strumento no pago le commissioni uno spread per andare a mercato pago lo swap che spesso il broker mi fa pagare e quindi se sto a mercato non ho nessun vantaggio quindi io alle volte in opzioni rimango a mercato perché guadagna passare del tempo nel 70 per cento dei casi il mercato si dice che è laterale quindi guadagnare dal tempo è profittevole se io vado a mercato senza le opzioni il tempo che sto a mercato non me lo paga nessuno per cui stare a mercato mi esponi a un rischio meno sto a mercato meglio è a meno che non ho messo già lo stop a zero e a meno che quello stop a zero non possa essere saltato perché sto parlando di uno strumento che può espormi a dei gap come il mercato azionario questo ve lo faccio per farvi ragionare dall'alto sebbene io indossi questo cappellino per farvi ragionare seriamente come visione dall'alto cioè stare a mercato entrare a mercato esponi a rischio quanto tempo conviene stare se mi conviene o no alle volte aspettare o no sono tutti i ragionamenti che il trader si fa però alle volte questo discorso cambia anche dallo strumento che si utilizza vediamo un po in chat cosa mi scrivete allora quando un corso sulle opzioni nel 2021 parleremo anche oltre che di operatività di formazione in azioni e opzioni nel 2021 sicuramente ne parleremo e mantenuto lo stesso strike allora cosa dipende cosa cambia se incassa uno strike o l'altro quando vuoi incassato un affitto fate un accordo con l'inquilino dipende da che casa gli date da quanto tempo ci sta quando voi incassate un'opzione il premio che potete incassare può essere più o meno alto per cui sta a me decidere quanto tempo dura il contratto che ho dentro l'inquilino più è breve più in come vi posso dire più è lucroso nel senso che alla fine il cash flow è veloce e in proporzione in percentuale sono incassate a lungo periodo è di più il danaro in assoluto ma è di meno se lo dividete per giorno quindi voi immaginate che quando incassate a breve un'opzione come un contratto short rent come se mettete la casa su airbnb e di conseguenza chi mette la casa su airbnb sa che all'anno guadagna di più che non fare un contratto di lungo periodo poi dipende dallo strike che incassate qui è un'altra storia però anche quello cambia allora bravissimo giancarlo se il compratore ingain tu sei costretto a ripagarlo ma attenzione dipende come avete venduto l'opzione perché se io vendo un'opzione call e ho il titolo il mio risultato sarà una strategia che guadagna se il titolo sale quindi io dovrò restituire l'affitto perdo su quello ma guadagno sul titolo quindi non dovete guardare solamente all'incasso del premio dell'affitto io ve lo dico per esemplificare di molto le cose ma se avete già un'esperienza sulle opzioni dovete vedere che opzione vendete in che strategia la vendete e quindi qual è la combinazione finale perché l'opzione comunque tra l'incasso del premio e la strategia che mettete in piedi vi dà se lavorate bene due probabilità su tre di profitto andasse male potete decidere di andare in recycling cioè di reciclare quella strategia in opzioni che magari in perdita per fare un incasso per esempio vi ho fatto vedere che su nike ho chiuso una strategia in attivo non c'è più la strategia su nike sul gold ho una strategia in perdita ma intanto mi sono infilato in sacoccia un affitto settimanale e ne ho rinnovato un altro per questa settimana sebbene il totale della strategia sul gold in questo momento sia in perdita poi sta a me a seconda di quello che accade sul gold incassare un certo tipo di opzioni o meno creando una strategia rialzista e ribassista laterale quello sta a me come trader sulla base della previsione che ho sul gold e della volatilità del momento decidere come incassare quale l'affitto a fronte di che rischio e quanto ciccio è che sarà questo affitto va bene ora tra le varie cose beh allora diciamo che per le opzioni secondo me se vuoi avere un conto per fare forex alla fine puoi provare anche con 500 dollari e va bene così per le opzioni puoi fare anche un'opzione una strategia che costa 50 dollari però il bello dell'opzione poterci mettere l'aggiustamento la cosa è per cui secondo me non è una roba da iniziare per provare con 500 dollari cioè qualche mille ci vuole di sicuro io direi che 5.000 l'ideale sarebbe che ci metti lì un deca e morta lì anche perché il bello dell'opzione è reagire in modo passivo al mercato se tu fa una previsione va male ti prendi un pugno in faccia va bene tieni sui guantoni piuttosto che prendertelo a viso aperto e il mese dopo la settimana dopo la scadenza rispondi rispondi può voler dire aggiusti incassi premi ti fai assegnare cosa questo è il bello dell'opzione per farlo devi avere un po di liquidità altrimenti fa la strategia anche da 50 dollari guadagni o perdi chiudi finita lì e allora è chiaro che il capitale può essere più piccolo perché perché il tuo massimo impegno in danaro non cambia nel tempo quindi noi nel 2021 traderemo tutto quello che si muove forex indici azioni americane gold stock opzioni tutto lo faremo con il max in compagnia di persone specialiste di caso in caso le azioni non traderemo quelle italiane quello ve lo posso già dire traderemo solamente stock quotati al mercato americano indici americani e tutto quello che vabbè mercato forex voi sapete che sul forex per me l'euro dollaro è quello che va per la maggiore grazie a voi daniela bonni se avete bisogno di viaggiare la daniela di base a questo di mestiere e vi può aiutare nelle vostre i vostri peregrinaggi qui abbiamo codiciane abbiamo codiciana buongiorno da roma nostra codiciana caterina il buon camillo che ci ha mandato un video condiviso delle stories oggi doveva davanti a un negozio di gamestop e dice la peppa e la peppa è il nuovo tormentone nel giro del mondo del max è iniziato in egitto ok vediamo se c'è qualche altra news ok benissimo tutta 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 ok ok poi parleremo anche di trading manuale di trading automatico avete visto che l'anno scorso abbiamo intrapreso questa grande strada nel mondo del trading automatico uscendo con alcuna un sistema per ora in particolare poi chiaramente avremo i nostri trader in questi giorni mi è un po difficile perché muovendomi tanto da un hotel all'altro da un post all'alto perché siamo in fase itinerante di visita allora è difficile ma non appena mi ristabilirò al cairo farò qualche diretta in più con i miei trader e poi partiremo per luxor allora il famoso budget per iniziare all'inizio anche se i soldi è meglio che parti da poco prima è meglio che parti senza soldi in demo perché è il trading è uno di quei mestieri che si può fare con i paper mani si chiamano così per cui coi soldi finti senza soldi veri per cui ti metti in paper mani impari un modello è sconsigliato partire imparando da soli perché al modo più costoso in assoluto a me è costato un bel po di soldini partire da solo qualche centinaia di milioni dollari per cui meglio imparare con qualcuno che ti spiega quindi se vuoi ci segui ci scrivi nel whatsapp che passa sotto oppure vai sul sito codice max meglio che prendi un appuntamento in colla scrivi al whatsapp che c'è sotto ti chiama uno dei nostri codiciani fra l'altro perché le persone che sono entrate in codice max lavorano anche con noi oltre a fare trading con noi alcuni di loro per cui ti possono spiegare la loro esperienza in codice max come puoi tradare quanto ci vuole per il conto il nostro metodo come funziona eccetera 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 poi di base puoi partire con 500 euro 150 euro sul conto che non è diciamo far trading ma cominciare a farlo con un po di soldini veri poi se anche tu un capitale grande meglio partire con poco e capire e quando ti sei dato data al tempo parti mano a mano e capisci da solo come aumentare i soldi sul mercato perché il trading dà la possibilità di partire con qualunque cifra non è come quando tu apri un bar che il minimo costo è x puoi decidere di partire anche con un capitale risicato però però bisogna darsi il tempo di capire alcuni meccanismi purtroppo nel trading siccome una cosa con cui è facile iniziare reale si apre un conto si mettono su dei soldi si compra in questo momento qua c'è da dire che una di quelle fasi storiche succede ogni tempo in cui se compri quasi qualunque cosa guadagni stanno oramai le cripto salgono così tanto che non si parla più di quanto fanno in percentuale ma mi scriveva un amico che con cui conosco condivido trading da lunga data che oramai si misurano in per cioè quante volte la cripto ha fatto è un mercato veramente fuori di testa il mercato americano sta volando per cui ti compri qualunque cosa vedi che sale da una qualunque però queste fasi durano un po poi alla fine di queste fasi rimane chissà come fare trading che non chi compra caso è bello il trading per una serie di motivi perché ci si avvicina con facilità lo fai da dove vuoi non a caso siamo partiti alla volta del giro del mondo più di un anno e mezzo fa non sono ancora tornati però bisogna comunque saperla fare altrimenti sotto gamba poi si prendono le musate io lavoro con tutti certo io un gruppo di top trader composto da arduino che il primo con cui abbiamo iniziato a lavorare fabrizio fabri forex che è il secondo con cui ho iniziato a lavorare e andrea carosi assolutamente infatti li vedete in diretta con me spesso e volentieri a breve voi sapete che sto anche aprendo dei conti di trading per investire su di loro loro fanno trading per conto loro e alcune operazioni loro vengono replicate sui conti aziendali della proprietari trading e a breve partirà un altro di questi inaugurazioni da 50 mila se mi seguite nelle prossime ore ci sarà un altro account da 50 mila che partirà nelle prossime ore e verrà inaugurato nei prossimi giorni per cui uscirà un messaggio come sempre quando facciamo questa scelta di trader su cui andare ad allocare e quindi vedrete poi sarà in diretta con me perché ogni inaugurazione viene fatta ufficialmente in una diretta bitcoin salito avevo offerto una piccola posizione che poi ho chiuso perché si era un po fermato però sul bitcoin dobbiamo dire che il fatto che sta consolidando a livelli così alti dimostra una grande una grande maturità vedo l'S&P invece un po' indaffarato lassù in alto con una riduzione di volatilità per cui in questo momento non ho rinnovato le posizioni con la liquidità che ho chiuso non ho rinnovato altre posizioni perché voglio stare a vedere un po' che cosa succede là in alto all'S&P che cosa voglio dirvi voglio dirvi che vi faccio vedere una cosa operativa sto aspettando di capire un attimo se una cosa che io guardo è la volatilità quindi chi mi seguirà in codice max e traderà sul forex con me ma anche quando faremo le azioni le opzioni sentirà a parlare sempre di volatilità vedete che l'S&P da quando ha fatto questo candelozzo rosso è sceso no poi è ripartito con delle candele verdi vedete che mano a mano che va su mano a mano che queste candele si riducono di volatilità ora siccome ha fatto i nuovi massimi la volatilità si riduce voglio vedere se ha il fiato corto se ha il fiato corto potrebbe partire un nuovo storno e io in occasione del nuovo storno mi ricollocherò o sull'S&P o sul nasdaq o su delle azioni che sto seguendo nella watch lista io ho una watch lista che diciamo su base fondamentale mi raccomanda il mio studio di analisi tecnico il nostro famoso big money l'abbiamo battezzato così che gestisce per conto di una banca di investimento 73 milioni di euro per cui lui mi dice ora max questi sono i titoli su cui ti do la mia raccomandazione sulla base dei fondamentali o me li mando me li guardo in watch lista e ci costruisco delle strategie in opzioni o comprando il titolo secco che quello che poi faremo insieme nel corso del 2021 per chi vorrà avere il piacere di farlo insieme a noi sul forest lo facciamo già lo potremo fare anche in opzioni sulle azioni che cosa facciamo io me lo tengo lì quando il momento ma cioè migliore secondo me per entrare tra che me lo trado per esempio visa alibaba nike le ho già fatte io già chiuse due su tre mi dice guarda queste sono e queste rimangono per esempio un'altra operazione bella che ho fatto sempre su indicazione ve la posso far vedere questa non l'ho ancora chiusa ma è in attivo è sul titolo è sul titolo l'azione guardatela qua questa è l'azione mudis una compagnia finanziaria famosa vedete che è il laterale però ripartita dai minimi è andata su allora io ci ho fatto una strategia che può guadagnare se il mercato sale e l'ho ingabbiata anche nel tempo questa sta guadagnando però sta guadagnando il 30 per cento del suo massimo profitto in opzioni per cui l'ho lasciata lì e vedremo se ci porta a casa il suo profittozzo poi decido di tradarle in opzioni decido di tradarla comprando secca l'azione il titolo è può essere una o l'altro posso fare tutte e due le cose chiaramente le attenzioni che vanno in una strategia in opzioni è che se anche rimango a mercato il titolo non si muove il tempo mi paga se invece compro mudis long e poi alla fine mi si ferma allora non è che mi paga il tempo per cui mi conviene chiudere andare altrove oppure chiudere stare cash aspettare che magari il mercato ritraccia e mi riposiziono da un'altra parte scelgo quindi su queste azioni che hanno poi dei buoni fondamentali oppure scelgo sugli indici per esempio in questo momento il valutario è sceso un po mentre gli azionari sono saliti per cui alle volte anche il mercato che passa da strumenti ad altri da settori ad altri a seconda del momento storico perché magari l'azionario cammina bene e il valutario si ferma un po i soldi passano da un flusso all'alto succede anche questo per esempio adesso loro non se lo calcola nessuno ma se vi ricordate qualche mese fa ha fatto i massimi storici a 2000 ci sono le mode anche nei mercati finanziari e valutari cioè il bitcoin è salito tanto adesso è un po lì parcheggiato però ci sono azioni tesla adesso se ne parla meno tesla nio se ne parla meno e magari ci sono delle rotazioni a favore di altri strumenti mercati azioni eccetera abbastanza normale un po è perché ci sono i fondamentali o meno un po perché il mercato corre dietro a delle tendenze ci sono dei titoli che si incendiano e tutti si buttano nel fuoco per avere caldo quindi poi le mode passano le tendenze passano si va via da lì per andare altrove quando si va via da alcuni titoli può darsi che il titolo crolla o che invece il titolo va in laterale per esempio il bitcoin rimaste laterale nio rimaste laterale tesla rimaste laterale ma nessuno di questi che ho citato è crollato però magari ci sono attenzioni verso altri fenomeni altri titoli eccetera 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 allora no non funziona pagandoci delle percentuali lo so che molti lavorano così ma non è una cosa legittimata dalla legge allora non facciamo gestione noi tradiamo solamente i nostri soldi noi diamo dei servizi cioè noi ti spieghiamo come si fa e ci paghi la formazione ti diciamo le nostre analisi i nostri segnali e quali sono le cose che noi compriamo e tu le puoi fare per conto tuo non tocchiamo i soldi di nessuno che non è legittimo non facciamo copy trading che non è legittimo noi ti spieghiamo come fare ti diciamo le nostre entrate che tu voglia farlo su forex in questo momento daily e o in intraday stiamo abbiamo anche un servizio di questo tipo che si chiama club elita per cui se vuoi chiedere info tu scrivi nei numeri sovrappressore e ti diciamo tutto questo è importante bitcoin ea 44 ferma lì ferma lì andiamo a vedere il bitcoin che a 44 eccolo qua che ha rotto ancora i massimozzi eccolo qua che ha rotto ancora i massimozzi allora se a 44 il bitcoin se a 44 il bitcoin vi ringrazio per avermi avvisato perché lo aspettavo al barco io ci ho fatto una piccola operazione fermi lì siccome vi avevo detto che era trading in diretta fermi lì fermi allora fatemi andare a vedere come qua che funziona bitcoin finestra grafico fermi lì ragazzi che è venuto il momento di fare un'operazione in diretta formato max allora rottura del bitcoin del livello importantissimo e fugace a quota 42 mila tondo fermi lì che facciamo mi scuserete se mi prendo un po di tempo ok mille tre allora tutto succede in diretta per cui state fermi lì mille tre ok in diretta ragazzi vi mostro subito la piattaforma con cui abbiamo fatto l'operazione di trading live la facciamo insieme la facciamo insieme mi avete segnalato il bitcoin vi ringrazio perché è una cosa che stavo aspettando c'è il nostro nuovo intruso share screen allora siamo entrati sul mio conto live da un milione con l'operazione del bitcoin allora ho provato questa entrata sul bitcoin a 43 mila circa quota adesso vedete che ci sono delle righette lì perché io faccio le entrate poi mi calcolo il mio rischio per cui sono entrato a 43 e rotti e in questo momento sulla vostra mitica segnalazione stavo cercando di capire se questa congestione qua avrebbe dato un esito da qualche parte quindi ho fatto una piccola operazione di cui ho segnalato la chiusura l'altro giorno se vi ricordate perché comunque ho visto che il mercato stava recuperando cosa stava recuperando questa ombra qua che a me interessa parecchio perché questa ombra qua come spesso spiegato i codiciani funziona un po da gap quindi il mercato stava salendo per riassorbire quell'ombra quindi ho fatto una piccola operazione dalla chiusura del giorno prima al giorno dopo per portarmi a casa qualcosina adesso invece qui la situazione interessante perché il bitcoin funziona molto bene con i breakout per cui ho comprato la rottura qua con un pochino di soldini e poi aspetterò di vedere nei prossimi giorni se il mercato va bene se il mercato non va comunque io terrò la posizione per tutta quest'area di congestione non metterò mano alla posizione per aggiustamenti eccetera per cui il mio rischio prevede che il mercato vada giù anche fino a qua perché metterò lo stop solamente dove mi voglio coprire perché inficerebbe seriamente il quadro per tutto il resto se ne sta lì qua un'operazione bellissima da fare anche in opzioni sul bitcoin c'è anche il future ed opzioni ma l'ho fatta secca sul mio account di trading rimarrò qua nei prossimi giorni e vedrò se è il caso di fare qualcos'altro oppure no per ora ho fatto questa posizione 43 mila e 5 circa l'entrata rimango qua non metto nessuno stop in macchina qua sotto ho solo misurato qual è il rischio per posizione per poter decidere quanto mettere in danaro incredibile questa diretta dalla spinge con il pubblico dietro che si fa i selfie i commenti alle operazioni chiuse è un'operazione in tempo reale non pensavo di farla ma voi mi avete avvisato di una cosa che stavo fra l'altro monitorando non so se lo sapevate o no e mentre me lo avete detto bitcoin on the moon io vado a provare questa operazione un'operazione che terrò lì nel caso in cui alcune cose succederanno e che comunque potrebbe essere interessante nelle prossime ora nei prossimi giorni per intanto rimane lì entra nel mio portafoglio a far data da adesso 43 3.500 guarda 3.600 quel che lei il prezzo vedete le tratteggiate verdi sono l'entrata che abbiamo fatto insieme scusate sono condividato quindi vi subito l'invio ma devo fare i calcoli del rischio perché poi qua ogni strumento che comprate in cfd solamente trader purtroppo poi una menata perché va misurato in termini di rischio c'è un lotto sull'euro dollaro a un valore un lotto sul bitcoin a un altro per cui ho dovuto entrare con una quantità piccola per poi vedere quanto è rischio per posizione se mi va là sotto perché io fino a non intendo fare nulla non intendo chiudere in perita non intendo assolutamente intervenire per cui avete assistito un'operazione in live vi fa piacere perché oltre a parlare delle operazioni che abbiamo chiuso di alcune di alcuni titoli che stiamo monitorando abbiamo tradato in live il bitcoin andiamolo a vedere sull'h1 che pompa bestia qua guardatelo qua sulla h1 ha rotto la candela è rimasto sopra e adesso vediamo se tutti si buttano dentro oppure no oggi per chi segue il gruppo wall street bet su reddit è uscita una notizia la condivisa nelle stories il fondatore del gruppo di wall street bet è stato ha firmato un contratto ad hollywood perché hollywood vuole il suo film con la sua storia una cosa che mi fa venire la pelle d'oca sapete che veniamo parlato da gennaio questa parte da qualche settimana tutti stanno parlando di wall street bet che è un gruppo su reddit su un social che fa trading online e in modo speculativo ma in modo anche bizzarro c'è chi ne ha parlato bene chi male eccetera il buone lo mass che ne ha parlato e nel seguire le vicende sono iscritto al gruppo mi arrivano la novità ho seguito anche la vicina del fondatore che sostanzialmente si sta come vi posso dire esponendo a questo film insieme dove racconteranno la tua la sua storia a hollywood benissimo di mandosi sul seguono i selfie alle mie spalle per ora solo uomini nessuna femminuccia ovviamente così saluto tutti io ho chiuso l'oro benissimo ti seguo da poco sono grande grazie allora per ora delle cripto nella primo trimestre di quest'anno parleremo solamente per cripto parleremo solamente del bitcoin qualcuno lo vede come qualcosa di futuristico per qualcuno è già la macchina a vapore perché non è già più una novità nel frattempo vi evidenzio la spinge la potete vedere nelle mie dita vedete nel nell'ok delle mie dita quelle la spingue l'ho fatta vedere anche all'inizio bene insomma alla fine abbiamo fatto anche un'operazione in diretta cosa volete di più di così che profitto avete a dipende dal rischio dipende dall'operazione insomma abbiamo fatto vedere per tutto il 2020 un conto da un milione il mio con cui abbiamo fatto 400 e rotti mila euro parlare di quanto guadagniamo non è tanto l'affare del secolo ognuno poi rischia quello che vuole la cosa bella è che siamo gli unici che si mettono qua a far vedere che fanno il grano tutti i giorni tutte le settimane che aprono l'operazione in diretta sul bitcoin come se non ci fossero domani nonostante io abbia qui da fare attenzione al mio capellino è troppo bello ragazzi da stare insieme così dove volete andare a trovare un altro max ma anche se fate il giro del mondo andate anche in america dove mercati finanziari sono indiscutibilmente la patria mondiale dove cazzo lo trovate un altro come il max dai su fate i seri fate i seri è la monica la nostra codiciana che è innamorata delle piramidi bene ragazzi anche oggi abbiamo un prodotto ci siamo divertiti che questo è importante allora l'obiettivo è certamente trovare un modo di guadagnare che è l'obiettivo per cui le persone vengono a contatto con me e facciamo trading e tutto quanto vi spiego il mio metodo vi presento i miei top trader che sono diversi da me in carattere caratteristiche modelli operativi per cui uno poi sceglie un metodo che è più in linea con le proprie caratteristiche perché ne scegliere il modello di trading bisogna rispettare le proprie caratteristiche una delle cose che non si discute mai che per ottenere risultati nel trading bisogna rispettare il proprio carattere le proprie caratteristiche non ci si può forzare a voglio guadagnare faccio quello che fa max può magari è meglio che fai quello che fanno i miei top trader magari è meglio quello che faccio io ma non è meglio in assoluto è meglio per le caratteristiche quindi di capire che le tue caratteristiche che hanno dato fino ad oggi un lavoro che fai che linea con le tue caratteristiche devi rispettarti nelle tue caratteristiche per diventare profittevole c'è chi trada con lo stop chi senza chi fa l'opzione l'importante che trova una roba che ti si addice l'altra cosa importante secondo me è che poi una volta che trovi il modo di guadagnare ognuno spende il tempo il danaro come vuole e diventa vittimo schiavo del danaro oppure no io ho deciso che voglio dedicare il tuo tempo al mio lavoro la mia professione al trading alla formazione che faccio è tutto quanto un top di tempo al giorno perché perché credo che ci sia nella vita tanta roba che si può fare soddisfazione nel lavoro nel danaro e poi un mondo da vedere anche se adesso siamo un po' tutti più bloccati però alla fine anche questo se abbiamo un'attività che ci permette di essere indipendenti ci si può muovere anche adesso bisogna essere chiaramente liberi da cose che ci contrattengono in un posto di un altro io non voglio negoziare il mio tempo per il danaro non voglio negoziare il mio tempo per un'attività che mi costringa a stare in un posto ci sono persone che di danaro ne hanno fatto a tonnellate però poi non vorrei cioè non sono dell'idea che sia bello dover stare in un ufficio per forza o dover coordinare persone che lavorano per te non è quello che a me piace per esempio delle ultime ore che besos e zakenberg si sono dimessi da si odre loro aziende non so ancora perché non ho approfondito però se fosse un gesto per avere maggiore libertà io credo che la vita è una sarei assolutamente a votare a mettere like sul loro gesto per cui va bene fare i soldi però la vita è una le 24 ore sono per tutti e secondo me questo è importante per la propria famiglia per le persone che siamo eccetera faccio i soldi perché così almeno aiuto la mia famiglia sto bene con la mia famiglia tutto sì però poi devi starci con la tua famiglia con i tuoi figli se ne hai con la tua donna eccetera eccetera infatti adesso me ne vado da Mirella con cui condivideremo le attività del pomeriggio domani ce ne andiamo alle piramidi alle mie spalle a visitare dentro fuori intorno eccetera eccetera per cui il sabato abbiamo visitato saccara che qua vicino una piramide la più antica rispetto a queste e abbiamo condiviso le foto stories eccetera e ieri ce ne siamo andati nel deserto a cavallo oggi pausa perché avevamo da fare delle cosette perché durante il giro del mondo bisogna anche organizzarsi e poi domani si torna mattina alle piramidi per cui magari faremo una diretta magari no abituatevi e iscrivervi a vivere di trading il mio gruppo su telegram l'unico gruppo che gestisco gratuito dove vi avviso sulle dirette altrimenti mettete like sulle pagine mettete like sull'instagram e sul facebook e sullo youtube così vi arriva la notifica allora se vedete informazioni su quello che faccio come lo faccio come lo spiego i corsi e tutto whatsapp che sta girando sotto scrivete lì non dovete sapere niente contattate le persone se volete vi fanno un appuntamento noi non chiamiamo a casa nessuno se ci chiedete di essere contattati vi facciamo una call in whatsapp altrimenti vi scriviamo in chat altrimenti vediamo tutti i link non dovete sapere nulla se volete entrare in contatto con quello che io faccio con la mia squadra con i miei informazioni su tutti vi ringrazio per essere stati in compagnia con me ci tenevo tantissimo a fare questa diretta che poi rimane una storia no nel giro del mondo di max che fa trading in tutto il mondo da un anno e mezzo che sono partito così rimarrà questo pezzo di storia qui a gisa con la piramide sono veramente felice vi ringrazio per la vostra anche riconoscenza mi scrivete feedback eccetera fantastici vi ringrazio chi lo fate più chiaramente io sono incentivato e motivato a farne sempre una di più alla prossima un abbraccio e chiaramente siamo comunque dei trader speculativi e per cui siamo qui siamo bravissimi come persone siamo gentilissimi nei vostri confronti vogliamo condividere tutto ma siamo qui per far i danni tutti quanti insieme i danni vediamo come va col bitcoin ciao ciao